Negozi aperti a Bari da domenica prossima fino a Natale. Per reagire all'austerity che anche quest'anno ha fatto lesinare il comune sulle luminarie e che lascerà ben pochi soldi in tasca per i regali sotto l'albero, i negozianti investono risorse e fantasia per allettare i baresi allo shopping. Vetrine addobbate, inviti via sms ai clienti affezionati, happy hour con musica e aperitivo, consegna a domicilio degli acquisti e sconti, super sconti, di quelli che fino a qualche anno fa venivano proposti solo nel post epifania ad assortimento praticamente decimato. Ora invece, lamentano i commercianti, se non si tagliano i prezzi sin da subito, si rischia di non vedere nulla prima di Natale. Per 7 italiani su 10 sarà ancora festa in crisi. Ogni famiglia ha messo in budget non più di 170 euro per gli acquisti di Natale. Il 47% degli italiani, praticamente 1 su 2, si sente più povero dell'anno scorso e 2 su 3 si aspettano che la crisi durerà almeno altri due anni. Con queste premesse sale al 14,2 rispetto al 13,7 del 2012 la quota di coloro che quest'anno non faranno compere natalizie. La media sarà di quasi 5 regali a famiglia, con un costo per ogni singolo regalo di circa 36 euro e una tendenza verso il calo degli acquisti di abbigliamento, tecnologie e divertimenti. La spinta verso spese utili premia invece l'enogastronomia della serie. A tutto si può rinunciare, anche a Natale, ma non al cibo.